Musica Caduti calcinacci da un cornicione nella centralissima via Mensa a Venerea Reale è accaduto nella serata di domenica 6 maggio poco prima delle 22. Molti turisti ancora in giro e fortunatamente nessuno è stato colpito dai calcinacci caduti a terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Venerea Reale e l'autoscala di Torino che hanno messo in sicurezza la via. La palazzina in questione è da diverso tempo che versa in cattive condizioni. Intervenuti anche il tecnico del comune, il sindaco Falcone, che effettuato sopra il luogo hanno emesso ordinanza di chiusura del dehors del bar e chiusura temporanea della rosticceria che ha l'apertura sul lato di via Mensa. Ordinanza di ripristino in sicurezza di una signora dell'ultimo piano dove i vigili del fuoco hanno chiuso le due stanze inagibili. Chiusa temporaneamente anche via Pavesio e c'è polemica tra i commercianti. Grazie a tutti.